benvenuti in un nuovo video questo è un video di progresso e a voi mi potete dire in che senso di progresso praticamente poi potete vedere al prossimo minuto mancano 24 secondi alla prossima ora 50 minuti e così via poi fino all'anno prossimo a San Valentino prossimo quarto di luna prossimo secolo millennio la via Latia si scontra con asteroidi mancano 4 miliardi di anni 5 miliardi di anni sulle mure questa cosa che si ghiaccia l'universo ritorna la cometa allora al prossimo minuto mancano 52 secondi in questo momento sono le 10.03 del mattino la prossima ora mancano 57 minuti il giorno dopo quindi il 3 agosto del 2023 mancano 14 ore al prossimo mese in questo caso settembre sfortunatamente il mese che si è alla scuola mancano 29 giorni all'anno prossimo mancano 150 giorni al prossimo San Valentino mancano un totale di 195 giorni al prossimo San Patrizio mancano un totale di 277 giorni alla prossima Pasqua mancano un totale di 241 giorni alla prossima festa della mamma mancano 233 giorni rimasti alla prossima festa del papà mancano 318 giorni al prossimo Halloween quindi ottobre mancano 89 giorni al prossimo ringraziamento non so cosa sia mancano 112 giorni se forse ho capito il prossimo Natale è 144 giorni fine di questa pagina 2959 pixel vabbè alla prossima luna nuova mancano 13 giorni prossimo prossima crescente vabbè la prossima luna crescente 17 giorni prossimo quarto di luna tra 20 giorni prossimo giboso c'è una cosa della luna mancano 24 giorni prossima luna piena oggi prossimo giboso calente quindi inizia tra 2 giorni il prossimo ultimo quarto di luna tra 6 giorni prossimo mezzaluna tra 9 giorni il prossimo decennio tra 7 anni il prossimo secolo tra 77 anni il prossimo millennio tra 977 anni e vabbè questi sono quelli che abbiamo visto prima della con metà di anni che mancano 38 anni eh Chernobyl è di nuovo completamente sì Chernobyl è di nuovo completamente al sinucuro mancano 177 anni la Yoyer 1 raggiunge la nube di Orte mancano 237 anni la Via d'Attia si scontra con un asteroide se con un asteroide con Andromeda mancano 4 migliati di anni il sole muore 5 miliardi di anni il coso ya c'è la terra c'è l'universo 10 centesimi anni una cosa del genere comunque spero che questi video vi stanno piacendo li sto facendo con Alfun è un sito dove posso fare molte cose ti puoi spendere come gli altri video spendere su Elon Musk lanciare bombe sulla terra tante cose a me piace molto se vi piacciono questi video iscriviti al canale lasciate un bel like fatemi sapere nei commenti se vi piacciono ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.